Buongiorno, buongiorno, buongiorno amigli, buongiorno cagazzi. Allora, come avete visto dall'anteprima, pronostigli, pronosti, pronosti, molto numerosi quest'oggi perché insomma siamo di ritorno dalla pausa nazionale, abbiamo tutti voglia di campionato, ci sono partite molto interessanti e quindi quest'oggi ben sette pronosti, ben sette pronosti e ben cinque partite che da oggi pomeriggio a lunedì sera seguirò e che analizzerò poi nel post partita. Quindi iscrivetevi al canale, fate iscrivere e attivate il campanaccio perché poi alla fine di ognuna di queste cinque partite farò l'analisi post gara. Poi vi dico quali saranno le partite che seguirò. Allora, iniziamo con i pronosti. Lazio-Atalanta, Lazio-Atalanta mi gioco un 1, partita molto difficile da pronosticare perché è da tripla, perché la Lazio è inaffidabile, perché l'Atalanta è forte, perché l'Atalanta è cattiva però mi voglio giocare un 1 confidando sul fattore campo, su questa Lazio che magari può fare una prestazione convincente che può anche su spinta presidenziale, insomma, cercare di agguantare sto quarto posto che a livello di qualità e forza della squadra dovrebbe essere un qualcosa, non dico di assolutamente probabile ma comunque di molto possibile, quindi Lazio-Atalanta mi voglio giocare un 1. Napoli-Verona Napoli-Verona mi gioco una X sarò pazzo, sarò un feccaniero, un canaparo però, a parte che io quest'anno sapete che simpatizzo per il Verona il Verona è una squadra nostra, è una squadra che mi fomenta ne ho elogiato il calciomercato, vedo una squadra viva, una squadra sbarazzina e quindi Napoli-Verona mi gioco un X mi gioco un X contando su un Verona che va lì magari a essere pericolosa in attacco che sfrutta delle incertezze del Napoli mi vedo un 1-1, ecco, un 1-1 Lazio-Atalanta mi vedo più un 2-1, 2-1, così 3-1, 2-1 Napoli-Verona mi vedo un 1-1, ok? Quindi Napoli-Verona X Juventus-Bologna Juventus-Bologna, qui mi vedo un 1 mi gioco un 1 perché vedo una Juventus che vuole magari rientrare dalla sosta sul pezzo che vuole subito mordere il campionato far capire che si è ritornati coi piedi per terra a macinare poi anche per forza della squadra insomma, sebbene il Bologna sia, come ha detto anche il Vat e Sarri una squadra da trattare con le pinze però Juve-Bologna mi gioco un 1 ok? Mi vedo una vittoria della Juve insomma Sassuolo-Inter, qui mi gioco un 2 perché sento troppa gente dire che l'Inter cadrà a Sassuolo che l'Inter è in crisi che l'Inter ha gli uomini contati che l'Inter ha il problema degli infortuni che Sassuolo sarà un bagno un bagno di feci e invece io mi gioco un 2 vedo 1-0-1 un risultato alla Conte di una squadra che per carità magari soffrirà magari non sarà così scontato da portare a casa un risultato in goleada mi vedo 1-0-1 magari con un gol dell'ex un qualcosa del genere un politanio non lo so 1-0-1 Sassuolo-Inter 0-1 e mi gioco un 2 credo che l'Inter riprenderà a vincere una partita da Conte da spirito contiano da trionfo nelle difficoltà Milan-Lecce qui partita molto difficile perché Lecce è una squadra che gioca è una squadra che crea problemi è una squadra che vuole giocare a viso aperto il Milan può soffrire non mi stupirei di vedere una replica di Milan-Fiorentina cioè con un Milan sterile e un Lecce che gioca magari di ripartenza mette in difficoltà però mi gioco una X Milan-Lecce mi gioco una X in cui magari si vedono dei miglioramenti a livello di razionalità in campo però magari qualche ancora scoria psicologica qualche problema di destabilizzazione insomma è stata una settimana difficile per il Milan anche fuori dal campo magari se avrò modo farò in settimana un appuntamento magari dall'angolo del Casciavite per parlare di questa situazione budget e bilancio del Milan però io Milan-Lecce mi gioco una X mi vedo un 1-1 un 2-2 anche qui Brescia-Fiorentina qui mi gioco un 2 me lo gioco un po' perché sono tifoso della Fiorentina sono gasato da questa viola di Montella che mi fomenta siamo in un buon momento credo che si possa andare a Brescia a cercare di vincere poi ovviamente dinanzi abbiamo una squadra assolutamente degna con delle buone individualità che comunque vuole e deve far punti non mi stupirei se venisse fuori anche un pareggio ci può stare però voglio giocarmi un 2 voglio giocarmi un 2 voglio dare fiducia alla squadra al momento della Fiorentina all'entusiasmo e quindi Brescia-Fiorentina mi gioco un 2 ok quindi vi vado a riassumere i miei pronosti i miei pronosti allora Lazio-Atalanta 1 Napoli-Verona X Juventus-Bologna 1 Sassuolo-Inter 2 Sampdoria-Roma X Milan-Lecce X Brescia-Fiorentina 2 ora vi vado a dire quali sono le partite che vedrò al diciamo che vedrò e poi analizzerò e poi commenterò a fine partita quindi se siete tifosi di queste squadre attivate il campanaccio o anche condividete con altri tifosi dicendo guardate che alla fine della partita questo insigne sapiente del calcio questa divinità del calcio questo Zlatan Ibrahimovic del del commento calcistico youtubiano di nome Alessandro Catto farà il commento post partita della tua squadra quindi hai tutti i vantaggi per iscriverti e aspettare in feccacitante attesa i verdetti sulla tua formazione mi guarderò Napoli-Verona ok che commenterò insomma è diventata una tradizione seguire il Verona mi guarderò Juve-Bologna farò un'analisi post partita di Juve-Bologna farò l'analisi post partita domani a mezzogiorno di Sassuolo Inter farò l'analisi post partita domenica sera di Milan-Lecce e farò ovviamente ci mancherebbe altro l'analisi post partita lunedì sera di Brescia Fiorentina ok quindi Napoli-Verona Juve-Bologna per sabato queste due qua per oggi dopodiché domani commenterò Sassuolo Inter Milan-Lecce e Brescia Fiorentina lunedì visto che la Fiorentina gioca lunedì sera non posso fare il processo live al campionato perché ovviamente andrebbe a cozzare come dicono gli studiati con la necessaria attenzione che ho bisogno di avere per Brescia Fiorentina e soprattutto col video post partita di Brescia Fiorentina quindi per questa giornata qui al posto di aspettare martedì per fare il processo al campionato perché poi c'è già la Champions quindi eviterei faccio lunedì mattina un punto generale sul campionato sulle partite che si sono giocate prima di Brescia Fiorentina e poi la sera faccio un video dedicato a Brescia Fiorentina e a quel punto il video del giorno dopo sulla Fiorentina va a martedì mattina e i pronosti per la due giorni di coppe li faccio il martedì pomeriggio e da martedì sera ci dedichiamo già alla Champions per fortuna adesso per un mese avremo insomma il campionato ancora tra noi ancora diciamo potremo godere di questo campionato poi per sfortuna avremo un'altra sosta delle nazionali se non sbaglio esattamente tra un mese inizio dicembre seconda settimana di dicembre non mi ricordo neanche bene in cui il campionato dovrà purtroppo interrompersi per vedere due partite totalmente ininfluenti per la nostra nazionale però cosa cosa volete farci così è la scorsa volta come punteggi diciamo come X1 2 come pronosti li avevamo indovinati quasi tutti la scorsa domenica avevamo sbagliato solo l'X dell'Inter di Inter Juventus perché poi alla fine ha vinto la Juve io mi ero giocato avevo avevo diciamo pronostato la X invece è venuto fuori il 2 vediamo su questi quanti ne prendiamo ok quanti sono giusti non mi gioco la X sapete che io ho un conto in sospeso con la X dell'Inter ritardataria ma non ho voluto giocarmela oggi diciamo non ho voluto pronostarla oggi sebbene la partita possa anche in effetti essere una partita da X ma io mi vedo più una mi vedo un Inter che va insomma a Sassuolo e che riesce a sfangarla ecco che riesce a sfangarla come come abbiamo come ha fatto un po' la Fiorentina con l'Udinese mi vedo una partita molto contiana e di questo qui bene vi saluto io vi saluto la mia carta da formaggio guardate che qualità ho messo anche la televisione a fianco alle partite che analizzerò così questa è pura carta da formaggio va bene ve la dedico vi saluto un bacione e a dopo perché alla fine adesso dobbiamo aspettare le partite di campionato un bacione